Caro Leo, visto che hai fatto una storia e hai detto ai tuoi followers di stare sereni, di stare tranquilli, non credi che sia arrivato il momento, se sei uomo, di chiedere scusa perché hai preso per il culo la tua ex fidanzata ed anche questa ragazzina di cui posterò i messaggi dicendo che sei single e che eri single al 100%? Sento. Cara Lara, invece a te ti vorrei dire che se sei diventata popolare è grazie alle persone che ti seguono e non puoi cercare sempre approvazioni senza poi dare spiegazioni. E visto che tempo fa in una storia dicessi che tu come a scacchi eri dieci mossi avanti, ti voglio ricordare che questo gioco sta finendo. E sinceramente da madre mi sento di dirti che non si approfitta dei ragazzini che ti seguono e di smetterla di attirare attenzioni con bugie come stai facendo tu. Spero che adesso tutti questi giochetti e manovre siano arrivate alla fine perché le persone non sono stupide come vuoi far credere tu, cara Lara. E che tu chieda scusa a tutte le persone che ti hanno seguito con affetto visto che ha giocato con i loro sentimenti e con la loro fiducia?